Una novità molto intrigante e molto bella da parte nostra perché comunque a causa dell'indisponibilità del Palafiera, in quanto ci sono dei campionati di ginnastica, abbiamo chiesto la disponibilità per giocare al Vitri. Perché avevamo poche opzioni in quanto potevamo giocare a Fano alla trave ma il campo non è consono, il palazzetto per una partita così importante perché è il ritorno dei play-out per la permanenza in Serie A. Noi giochiamo sabato alle ore 17 e l'invito chiaramente è quello di venire a vedere questa partita anche perché al di là del gradimento dello sport è anche un'occasione per vedere una manifestazione così bella, così importante per vedere il calcio a 5 nell'arena del basket. Una parte dell'incasso metteremo dei biglietti minimi, quindi una quota molto popolare, mi pare adesso comunque lo comunicheremo, comunque dovrebbe essere 5 euro per gli adulti e 2 euro per i bambini. Una parte insieme anche al comune di Pesaro lo vorremmo destinare agli alluvionati o dell'Emilia Romagna o di Pesaro, adesso quello lo decideremo insieme al comune. Io chiaramente in Ario e in tutta la VL ho sempre trovato una società e una disponibilità illimitata, quindi io al di là di quello che c'è stato, del passato, magari non ci siamo trovati per vari motivi, però io quello che ho detto devo sempre e solo ringraziarli perché mi hanno sempre aiutato, quando c'è stato bisogno mi sono venuti sempre incontri, quindi assolutamente sì, c'è sempre stata, c'è e ci sarà una grande collaborazione tra l'Ital Service e la VL. Con la società di Lorenzo Pizza abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, continuiamo ad averlo, cercare di, al di là dei rapporti personali che sono ottimi, cerchiamo di capire se si potesse utilizzare anche il pala pizza e il pala vitifrigo per loro, sarebbe una bella cosa, ma è ovvio che questo non dipende da noi, dipende da un'amministrazione, dipende da una gestione della struttura che, ripeto, indipendentemente dal nostro volere. Inizia il secondo tempo, altri 40 minuti, siamo in vantaggio di un gol, ma pensare a questo sarebbe riduttivo perché dobbiamo affrontare tutti i 40 minuti, ma palla su palla in maniera totale perché è comunque una partita di vitale importanza, non si assegna un titolo ma si assegna la permanenza della categoria che per la società, per la città, per i tifosi è tutto. Posso ringraziare Fulvio Colini per questi due anni di collaborazione e ringrazio la società per la fiducia che mi ha dato per affrontare queste due partite fondamentali per la società stessa, quindi lo prendo con orgoglio, con responsabilità e determinazione. Nel futuro stiamo costruendo una squadra molto ben strutturata in base, quello che ho sempre detto, in base alle nuove regole e ai nuovi regolamenti che ci ha imposto positivamente, lo uso come termine positivo, la divisione. Noi chiaramente abbiamo la fortuna o la bravura di aver costruito un settore giovanile importantissimo, molto florido, e quindi è ora di aprirlo, aprire questo settore giovanile e incominciare a far giocare insieme e affiancando a tanti senatori che comunque rimarranno, oriundi e formati, incominciare a affiancare giovani interessanti. La rivoluzione a livello societario comunque non più di tanto, la stabilità verrà mantenuta perché come ho detto non c'è più il presidente Lorenzo Pizza ma Lorenzo Pizza è qui e non molla assolutamente il CDA, quindi non ci saranno ribaltoni. Forse ecco, diciamo che il ribaltone più grosso è stato fatto quest'anno, possiamo dire, usiamo un termine uniperbole, abbiamo toccato il fondo, adesso si riparte, il fondo l'abbiamo toccato, adesso da qui si riparte perché la struttura per ripartire c'è, quindi da qui in avanti riparte la salita per cercare di arrivare un'altra volta alla vetta.